dove siamo qua Tania? spiaggia della? vabbè Tania non parla siamo vicino alla pelosa dove siamo ieri questo è il simbolo qua della pelosa però siamo in un posto molto più bello lì tutta sabbia l'ho fatta tutta ieri ho fatto tutto il fondale sotto tutto morto tutto bellissimo ma spiaggia sabbia qui signori e signori paradiso sotto uno spettacolo peccato che la telecamera non è subacquea ma ho fatto tutta questa parte qui sotto uno spettacolo spettacolo saraghi pesciolini varia natura guardate l'ignoranza della non so i nomi dei vari pesci ma spettacolo spettacolo allontananza varie barche catamarani e quant'altro barche insomma più o meno abbastanza un certo livello abbastanza insomma niente di che però tutto sommato non è porto cervo chiaramente però però fondale fondale mi rimarrà nel cuore da sempre bellissimo un po di rocce ma ci siamo sistemati alla fine Tania ha preso anche il sole qua comunque stupendo adesso il sole si è andato quindi l'acqua sembra meno azzurra ma qua parte parte la bellezza del mare ma i fondali qua comunque mi hanno dato molta soddisfazione quella che cercavo dalla Sardegna e che fino adesso non avevo non ho avuto e quindi niente Tania si è scocciata giustamente se abbiamo fame penso che hai fame vero Tania? no la nostra macchina sarà ultima al parcheggio Tania dici tu sono sta sicura vabbè andiamo che ti devo dire Tania comunque sta fino alle 8 adesso io ti sono eh finì tanto le 8 finisce la... le 8 finisce tutto insomma finisce il pagamento bellissimo che dire stupendo veramente non ho parole la Sardegna si rimane qua dentro qua ma anche soprattutto qua qui ah c'è un'altra adesso ho notato eh carino tutto bello qua tutto bellissimo tutto bello veramente paesaggi da favola paesaggi da cartolina qua con macchine fotografiche professionali qua c'è un set d'aria aperta per tutto 24 ne basta la pena no venire in Sardegna che dici Tania? si si se vogliamo andare prendiamo il caffettuccio andiamo a prendere il caffettuccio ciao stacca 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 non si stacca più stacca 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 stacca�� Grazie a tutti.